Con un programma nutrito e significativo prende via la 44esima mostra del libro per ragazzi nella città di Vallefoglia dal 13 al 20 maggio nella palestra comunale di Bottega. È una mostra che lo testimonia il fatto che 44 anni si fa e che ha molta importanza per il nostro territorio, il valore educativo, formativo e sociale per famiglie e giovani del nostro territorio. Al mattino si prevede ovviamente la presenza delle scuole, delle classi che faranno visita alla mostra e il pomeriggio c'è l'ingresso libro con tanti e tanti laboratori. Tanti laboratori con delle persone, delle vecchie conoscenze come Michela Gaudenzi, come Giancarlo Guccioni, l'associazione Unicef, la libreria di Montecchio, la libreria Piera Libri e quindi proporanno dei laboratori molto interessanti. Quest'anno ci sono anche due novità di rilievo, sia l'apertura e la chiusura della mostra. Ci sarà il pedagogista e illustratore Walter Baruzzi che presenterà una propria mostra. Invece la chiusura ci sarà delle letture sceniche recitate da parte dell'associazione culturale Teatro delle Isole. Quindi queste due aggiunte hanno arricchito il programma quest'anno. Quindi diciamo a tutti di far visita alla mostra che saranno degli eventi molto importanti di rilievo. Quest'anno la mostra si intitolerà La fabbrica del libro ed è un omaggio a Renata Gustoli, un'artista originaria di Mercatello sul Metauro, quindi delle nostre zone. Per noi è importante ricordarla perché è stata l'artefice di tante iniziative che sono state organizzate nelle biblioteche sin dalla nascita delle biblioteche dell'ex comune di Colbordolo. La collaborazione come Biblioteche Pian del Bruscolo, comune di Vallefoglia con le scuole locali è sempre un importante progetto che noi proponiamo a tutte le scuole del territorio, dove i ragazzi vengono in visita nelle biblioteche, facciamo scoprire il mondo magico della biblioteca e proponiamo dei progetti che quest'anno, finalizzati come tutti gli anni alla mostra del libro, hanno scoperto un artista e hanno scoperto anche un altro modo di vedere il libro, attraverso i sensi. Perché molti dei libri che Renata Gustoli ha illustrato sono proprio delle vere e proprie opere d'arte tattili. Quindi abbiamo fatto anche dei laboratori tattili in biblioteca dove i bambini dovevano, senza l'uso della vista, comunque riconoscere dei materiali con i quali poi hanno realizzato le loro opere che esporremo alla mostra. Una mostra importante che è diventata oramai un punto di riferimento nel territorio della nostra provincia delle Marche, probabilmente quel bel manifesto che vedete andrà anche alla mostra del libro a Torino. La mostra è un tentativo di far, nell'era dei media, di far leggere un libro, di scoprire come costruire un libro. La cultura è anche un'attività importante in pezzo del sistema economico e produttivo, perché più si cresce culturalmente, infatti anche democratico, di conoscenza, di mettere le persone nelle stesse più o meno identiche condizioni.